Buonasera, benvenuti amici rosso-blu per questa anteprima formazioni della gara Torres e Sorso valida per la quinta giornata di eccellenza, squadre in campo per il riscaldamento ne abbiamo già le formazioni che vi leggo immediatamente Sorso che scende in campo con Kerchi, Latte, Cacace, Cocco, Silvetti, Derudas, Delogu, Ruggiu, Falchi, Pulina e Caddeo a disposizione del tecnico mister Pierluigi Scotto, Spanetta, Del Rio, Chelo, Altea, Recino, De Kerchi e Pes in campo per il Sorso, gli under in porta Davide Kerchi, classe 97, Cristiano Latte, classe 2000 e Enrico Delogu, classe 99 per la Torres, facendone in campo Tore Pinna, Giovanni Patta, Vittorio Spano, Sandro Scioni, Cataldo Minutolo Gianfilippo Caterisano, Sarrizzu, Stefano Sarrizzu, Carlo Piga, Gaetano Lococco, Fabio Cocco e Alessandro Uleri a disposizione di mister Ivan Cerinac ci sono Enrico Selva, Andrea Borrielli, Giuseppe Palmisano, Paolo Gancitano Marco Fideli, Alan Jules Vecu e Roberto Galante gli under della formazione Rosso-Blu sono Giovanni Patta, classe 98, Vittorio Spano, classe 97 e Alessandro Uleri il 2001 più giovane della squadra Rosso-Blu e anche dei giocatori in campo dirigerà l'incontro il signor Gabriele Caggiari della sezione di Cagliari il primo assistente Giacomo Sanna, sempre della sezione di Cagliari come il secondo assistente il signor Francesco Meloni queste le formazioni che saranno in campo tra pochissimo alle ore 16 per la quinta giornata delle campionate d'eccellenza Torres Sorse noi ci risentiamo tra pochissimo per il live qui dallo Stadio Acquedotto top tab